Adesso abbiamo parlato invece delle petizioni per la sintesi vocali per quanto riguarda il trasporto di ATB e arriva proprio la risposta da parte dell'ATB. Alla petizione lanciata dall'Associazione Apri, sezione di Bergamo, con la richiesta di dotare tutti i pullman di sintesi vocale per l'annuncio di fermate destinazioni, arriva la risposta di ATB, diretta e interessata dell'istanza in questione. Già oggi una parte del nostro sistema prevede l'annuncio vocale a bordo e in particolare sui tram della linea Bergamo-Albino e su alcuni autobus sulla linea A5 stiamo sperimentando l'annuncio vocale di prossima fermata che è sempre stata la storica richiesta. Noi avevamo previsto prima dell'emergenza Covid che nell'ambito del progetto che stiamo realizzando una volta completato questo sistema di localizzazione degli autobus sarà possibile passare a quella fase del progetto della cosiddetta infomobilità in modo da rendere disponibile l'avviso su tutta la flotta. La parte invece di infomobilità consentirà non solo di dare le informazioni sui display delle pensiline, sui tempi di attesa degli autobus, ma che consentirà anche di dare l'annuncio di prossima fermata. Un progetto la cui realizzazione è stata rallentata dalla pandemia da Covid, ma che entro il 2021 dovrebbe vedere la sua completa realizzazione. Il progetto era in atto dall'inizio del 2020 e doveva essere attivo da settembre di quest'anno. Noi facciamo conto che avendo ripreso tutte le attività che entro fine anno, per fine anno o al massimo per i primi mesi del prossimo anno, questo servizio venga attestato e messo all'opera. Stiamo cercando di utilizzare le migliori tecnologie perché l'esperienza di viaggio sia un'esperienza easy, facile, e quindi noi pensiamo che l'infomobilità sia una delle leve principali. Va bene la petizione perché le petizioni sono uno stimolo, però noi stiamo agendo concretamente per dare una risposta ai bisogni che questi cittadini esprimono.